Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovi video di news su Butterfield 1. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia sul mondo di Butterfield. Oggi torniamo con una notizia veramente molto interessante legata alla Closed Alpha Multiplayer di Butterfield 1 che come sapete a breve dovrà terminare per iniziare appunto la fase beta a cui parteciperanno i Butterfield Insider. Quindi per chi non l'aveste fatto andate subito ad iscrivervi sul sito di Butterfield Insider e registratevi. Bene, un utente del sito reddit.com ha pubblicato quelle che sembrerebbero essere le prime immagini della Closed Alpha di Butterfield 1. In questa immagine potremmo vedere il menu, la schermata della lobby, le opzioni per il controller, tutti i vari settaggi per scegliere i pulsanti perché a quanto pare era una versione sia per Xbox One che per PC perché ci sono sia schermate del controller dell'Xbox One sia schermate dove ci sono i tasti WSDA per muoverci quindi controller, addirittura la schermata dove possiamo andare a personalizzare il giocatore per andare a mettere l'arma principale, la secondaria, il primo gadget, il secondo gadget, la granata ed eventualmente anche un'arma corpo a corpo. Inoltre tutte le varie configurazioni e settaggi per le munizioni e anche alcune modalità come la modalità conquista oppure dominio. Poi c'è anche server browser per andare a vedere appunto le partite in tutto il mondo alle quali si poteva partecipare e se ne vedono tantissime con 64 giocatori. Quindi queste sembrerebbero essere proprio le prime immagini che arrivano dalla Closet Alpha di Battlefield 1. Vi metto il link in descrizione così potete andarle a vedere bene sul sito di reddit.com. Fatemi sapere che cosa ne pensate, il menu a mio avviso non è che sia cambiato tantissimo almeno a vedere queste prime immagini da Battlefield 4. I settaggi sia per quanto riguarda il giocatore che per le armi e tutto quello che concerne gli equipaggiamenti sembra veramente essere molto ma molto vasto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie sul mondo di Battlefield 1. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.